Noi ci alziamo in piedi insieme a milioni di persone in tutto il mondo in questo giorno come sicuro del nostro impegno ne va alla povertà estrema e ai cambiamenti climatici e per chiedere ai capi di Stato e ai governi di tutto il mondo di agire subito e mantenere le promesse basse per raggiungere gli obiettivi del millennio e per combattere il degrado ambientale. In particolare l'Italia deve rispettare i propri impegni per aumentare e migliorare l'efficacia dell'aiuto pubblico allo sviluppo a partire dalla legge finanziaria 2010, attualmente in discussione al Parlamento. Vogliamo che l'Italia assuma un ruolo attivo e coerente nei negoziati sul cambiamento climatico in vista del vertice di Copenaghen di dicembre. Se gli impegni presi non restino ancora una volta solo parole. Noi continueremo ad alzarci non solo oggi ma tutti i giorni per dire non ci sono scuse, stop alla povertà e ai cambiamenti climatici. Grazie. Grazie.